Michi Vendola, SEL come avrebbe votato? Contro, semplicemente contro. Contro con una particolare delusione, perché i miglioramenti che sono stati introdotti alludono al fatto che si poteva aprire il fronte della ricchezza, della rendita, dei grandi capitali, delle grandi proprietà. Invece si è sfiorato la ricchezza, diciamo più che un colpo o una carezza, e si è sovraccaricato il ceto medio, i lavoratori dipendenti, le famiglie, i pensionati, di tutto il peso della crisi economica. Allora torno al punto di partenza. Io ho aperto credito nei confronti di Monti perché, come tutti gli italiani, ho visto il buio fitto di una stagione drammatica per ragioni economiche, ma anche per ragioni legate al danno morale che il berlusconismo, l'epoca delle olgettine ha determinato in Italia. Tuttavia mi aspettavo davvero un segno di equità, di sobrietà, la giustizia sociale. Non solo perché l'Italia è affamata di giustizia sociale da troppo tempo, siamo a digiuno almeno da 15 anni di giustizia sociale, ma perché la giustizia sociale è l'unico modo che può aiutare questo paese a crescere e a trovare le risorse per abbattere il debito pubblico. Se le famiglie sono alla canna del gas, se i giovani sono senza futuro e se i vecchietti vengono ammazzati, beh è difficile trovare le risorse, sia quelle morali sia quelle economiche, per uscire fuori dal tunnel della crisi. Un governo tecnico può rinunciare ad avere un pensiero politico? Ma questo è un imbroglio, che il governo tecnico non abbia un pensiero politico. Diciamo questo è un governo con tantissime figure di straordinario livello, con dei ministri che sono veramente, non solo grandi competenze, ma anche belle persone. Io ho il piacere di confrontarmi finalmente con ministri come Profumo, come Andrea Riccardi, che rappresentano una rivoluzione rispetto all'epoca del circo equestre berlusconiano. Siamo in un altro tempo, tuttavia il punto è il carattere politico, sociale, economico che il governo imprime con la sua manovra. Allora, io penso che la crisi è figlia dell'età della diseguaglianza e che si deve affrontare la crisi con un di più di eguaglianza. Se invece dalla crisi usciamo ancora più diseguali, i ricchi sempre più ricchi. Il ceto medio che comincia a sentire un profumo di povertà, il lavoro dipendente nell'angoscia della precarietà e le giovani generazioni senza futuro. francamente, con tutta l'ammirazione che ho per i professori, con tutto il disgusto che ho provato negli anni che hanno preceduto l'epoca dei professori, non me la sento di dare il mio voto virtuale a favore della manovra. Questa diseguaglianza provoca anche una sorta di guerra tra poveri e un po' in questo potremmo anche inquadrare quello che è accaduto a Firenze. È possibile che la crisi la debbano pagare sempre gli ultimi, anche con la vita? Ecco, noi dobbiamo essere molto allarmati perché già in Italia vi è stata una lunga e abile semina di antipolitica. Questa classe dirigente, quella berlusconiana, ha messo in campo dosi massicce di veleni culturali. Per cui la critica della politica è diventata antipolitica e ora l'antipolitica sta diventando rifiuto della democrazia. La crisi economica, la recessione, il rifiuto della democrazia insieme fanno una miscela esplosiva. Se poi cominciano a brellare i fuochi criminali del razzismo, la polizia etnica, l'igiene del mondo, dei pogrom contro gli zingari, contro gli africani, siamo veramente a un passaggio delicato. Anche per quello bisognerebbe chiudere rapidamente la stagione, tra virgolette, tecnocratica e tornare alla democrazia perché io temo molto che, così l'ho detto, dopo la quaresima tecnocratica possa esserci una poco santa Pasqua del populismo e del populismo della destra.